Livigno, centro tecnico per il CONI, primavera, risveglio, ok per tutti, tirano 8 marzo, lungo un mese, come sempre lo sport, Sondrio ricorda Diego Pini. Questo ed altro nel notiziario di TSN, benvenuti. Grazie a tutti. Allertato il 118, sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco del capoluogo che hanno forzato la porta, trovando così purtroppo l'uomo deceduto nella sua abitazione, tra le ipotesi sul motivo del decesso, la possibilità di un malore. Ed ora ci spostiamo in Alta Valle, andiamo a Livigno che si candida come centro tecnico sportivo. Vediamo. Livigno, centro tecnico per l'atletica. È questo l'ambizioso obiettivo dell'amministrazione comunale scesa mercoledì 3 marzo in regione a Milano per parlare di una convenzione ufficiale con il CONI per portare nel piccolo Tibet le squadre impegnate in ritiri e collegiali. L'ungimirante è l'assessore allo sport comunale, Remo Galli, che sta già pianificando come sfruttare al meglio la pista d'atletica, che ancora non c'è ma presto ci sarà. Infatti, l'impianto che prevede un anello a sei corsie regolamentare, con al centro un campo da calcio, è ancora solo su carta, ma i fondi, un milione e mezzo di euro, sono già stati stanziati da Comune, Pirellone e Bim dello Spoel, ed il bando uscirà a metà aprile. Entro l'estate 2017, conferma Galli, Livigno avrà il suo nuovo centro tecnico, così da ampliare ulteriormente l'offerta del paese sempre più orientata allo sport. L'opera verrà realizzata di fronte al centro dell'Acqua Granda, su terreni acquisiti dal Comune, creando così sinergia tra le strutture e i servizi offerti dal Wellness Park, in modo da rispondere a tutte le esigenze di un pubblico di sportivi amatoriali e professionisti. Un'idea vincente che ha trovato un primo parere favorevole dall'assessore regionale allo sport Antonio Rossi e dal vicepresidente del CONI Lombardia Carlo Mornati, un ottimo primo passo che fa ben sperare in un prossimo accordo ufficiale. Livigno, con i suoi 2.816 metri di quota, infatti ha in sé un microclima unico, ideale, ma anche ricercato dalle federazioni sportive per perfezionare la preparazione degli atleti in alta quota, sia in estate che in inverno in particolare, in vista di trasferte. La convenzione dunque gioverebbe certamente a tutti. In meno di un lustro, il piccolo Tibet ha fatto davvero passi da gigante per ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mondo dello sport, dal nuovo campo da golf alla piscina, testata da Federica Pellegrini & Co. e poi sci e ciclismo, con alcune delle squadre più prestigiose, già ospiti fisse del paese dell'Alta Valle. E non ci fermeremo qui, continua l'assessore Galli. Dopo la sponsorizzazione della campionessa di Biatlon Dorotea Wierer, entro il prossimo inverno vogliamo realizzare un centro d'allenamento pensato proprio per questo sport. Il gruppo San Pellegrino, di cui Levissima fa parte, ha registrato un'importante crescita nel 2015, confermando il trend positivo del 2014. L'azienda, che conta 1.500 dipendenti e prodotti esportati in 145 paesi del mondo, ha registrato nel 2015 un fatturato di 911 milioni di euro, con un incremento del 12,4% rispetto all'anno precedente. Sui mercati internazionali, la società ha chiuso con un più 25,4%. Nel complesso, nel 2015, le esportazioni delle acque minerali e delle bibite a marchio San Pellegrino si sono attestate attorno a 1 miliardo e 470 milioni di bottiglie, pari al 52% del giro d'affari complessivo del gruppo. Riguardo al futuro, fanno sapere i vertici societari, è in programma un investimento di oltre 16 milioni di euro per l'apertura, a metà 2016, di un innovativo impianto produttivo nel Lazio a Castrocelo. I tumori sono purtroppo tra le prime cause di morte in Italia. Secondo i dati diffusi dal sito termometropolitico.it, il cancro colpisce maggiormente al centro-nord, meno nel meridione. In Lombardia, le province con più alti indici di decesso sono Pavia, con 42,78 morti ogni 10 mila abitanti, e Sondrio con 38,93 morti su 10 mila abitanti. Invece la classifica Lombarda vede Bergamo chiudere con 31,07 morti. Manca davvero ormai una manciata di giorni all'inizio della primavera. Primavera, le temperature sono già tornate miti, ma la bella stagione non è detto che porti felicità a tutti. Vediamo il servizio di Elisa Compagnoni. Temperature miti, giornate che pian piano si allungano ed è già voglia di primavera. Ma come affrontare il migliore sveglio della natura e ricaricare le batterie dopo l'inverno? La naturopata ed esperta in nutrizione Giulia Pelosi consiglia qualche semplice remedio. Finalmente sta arrivando la bella stagione, quindi la voglia di depurazione, di depurarsi, di liberarsi dalle tossine accumulate per l'inverno, attraverso tante erbe e tanti integratori naturali, tra le quali suggerisco il terassaco, il cardomariano, fino ad arrivare a nuovissimi integratori di clorella ed erba di grano. Attenzione però ai polini, che per le persone allergiche possono nominare le camminate all'aria aperta. In previsione della primavera, dello sbocciare delle gemme e dei fiori, consigliamo l'utilizzo immediato da ora perché è in prevenzione del Ribes Negrom. Basta poco dunque per vivere appieno della bellezza della nuova stagione. Torniamo nel capoluogo valtellinese. Sono partiti i lavori di riqualifica di via Maffei a Sondrio. L'intervento consisterà nella riqualifica di 50 metri di marciapiede, è attualmente disconnesso a causa delle radici delle alberature presenti, particolarmente costrette dentro la pavimentazione in masselli autobloccanti e con rampe di accesso disabili non a norma. Il costo dell'opera, completamente a carico dell'amministrazione comunale, sarà di 25 mila euro. I lavori sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale termineranno entro fine mese. Tirano si prepara a celebrare la festa della donna con un ricco calendario che si protrarrà per oltre un mese. Vediamo. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'articolo 3 della Costituzione ispira il lungo 8 marzo di Tirano, dove la giornata internazionale della donna verrà celebrata con un fitto calendario di appuntamenti in programma fino al 9 aprile. Sebbene infatti la parità di genere sia ormai sancita a vari livelli da leggi internazionali e nazionali, i diritti delle donne sono ancora tema spinoso e contraddittorio e le pari opportunità vedono l'Italia, in Occidente, ancora fanalino di coda. Articolo 3. Universi femminili. È promosso dall'assessorato comunale alla cultura e grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio vuole offrire uno sguardo concentrato in particolare sulla forza e sulla creatività delle donne, sulla loro intraprendenza e la voglia di libertà, a partire da una riflessione sui diritti e sull'uso distorto dell'immagine femminile, sugli stereotipi promossi in particolare attraverso la comunicazione pubblicitaria e i mass media. Uno sguardo aperto oltre i nostri confini, che spazia in Italia e nel mondo, che vuole parlare a un pubblico femminile e maschile di ogni età. In occasione dell'apertura del programma, sabato 5 marzo, è previsto l'intervento dell'onorevole Micaela Campana, responsabile diritti e welfare del PD nazionale, per parlare di un tema di estrema attualità, le unioni civili insieme a due esperti giuridici. L'appuntamento è alle 21 nella sala consigliare del Comune. Da segnalare martedì 8 anche la proiezione al cinema mignon del film La bicicletta verde, opera prima, di Haifa Al-Mansur, prima regista donna saudita, che racconta la storia di una bambina, sua connazionale, pronta a sfidare le tradizioni imparando ad andare in bicicletta. E poi la scienza è un gioco, ragazze. Sabato 12 le scolaresche incontrano Elena Del Giorgio, dell'Università degli Studi di Milano per parlare di donne, scienze e professioni. Venerdì 18 alle 21 alla Biblioteca Arcari, invece ci sarà Cristina Piolini, alpinista e ricercatrice. Ha scalato le vette più alte del mondo e lavorato in Nepal presso il laboratorio EVK2CNR. Nel programma non mancano poi iniziative dedicate ai libri e alla musica per conoscere la donna in tutti i suoi universi. Tutte le informazioni su comune.tirano.so.it 10 marzo, giornata mondiale del rene. Un costante impegno per ribadire l'importanza fondamentale dei rene e della loro salute per il nostro benessere e per sensibilizzare l'opinione pubblica su un insieme di patologie in continuo aumento che possono condurre, se non prevenute, alla dialisi e al trapianto. Anche quest'anno la struttura di nefrologia del presidio di Sondrio aderirà alla giornata con due iniziative e rispettivamente il progetto scuola con il quale i medici della nefrologia incontreranno alcune classi quinte degli istituti superiori di Sondrio per parlare di prevenzione delle malattie renali con l'intervento di alcuni giovani dializzati e il progetto ambulatori aperti grazie al quale gli ambulatori nefrologici di Sondrio e Sondalo saranno aperti dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. A tutti coloro che si presenteranno verrà misurata la pressione arteriosa ed eseguito l'esame delle urine e seguirà un colloquio con i medici. L'aumento continuo della diffusione dell'uso scorretto ed illecito della comunicazione soprattutto attraverso mezzi informatici e telematici ha indotto liceo Piazzi Perpenti ad organizzare per i genitori delle classi prime, seconde e terze un incontro per la giornata di lunedì 7 marzo alle ore 17. Verranno affrontate diverse tematiche tra queste l'analisi delle modalità di comunicazione utilizzate dagli adolescenti il cyberbullismo, il bullismo, le devianze digitali e gli aspetti etici della comunicazione. L'iscrizione all'incontro è obbligatoria il modulo di partecipazione da compilare entro le ore 13 di venerdì è disponibile sul sito del liceo piazzilenaperpenti.it Siamo in chiusura prima di lasciarvi con Elisa Compagnoni e lo sport vi ricordo il sito www.radiotsn.tv i social, facebook e twitter all'account Radio TSN poi il canale di youtube dove potrete vedere questi ed altri servizi realizzati a cura della redazione di TeleSondri News mi fermo qui grazie per essere stati con noi al prossimo appuntamento con l'informazione Buonasera amici sportivi per ritrovati con l'appuntamento dedicato alla nostra rubrica questa sera apriamo con il basket Sondrio ricorda la figura di Diego Pini un evento per ricordare una delle figure più importanti del panorama sportivo della provincia capace di portare alla ribalta il grande basket in Valtellina il prossimo 10 maggio Diego Pini il fautore della miglior Summer League il Valtellina Basket Circuit avrebbe compito 70 anni e per l'occasione Valtellina Turismo Mobile di Sandro Faccinelli tra l'altro allievo del grande Diego organizza nella sua Sondrio una serata in suo ricordo un atto di gratitudine nei confronti di una persona a cui sono particolarmente legato e che credo fosse anche dovuta da parte mia l'hashtag della serata sarà io e Diego Pini quindi delle persone che hanno condiviso con lui parte del percorso incredibile che Diego ha avuto nella sua carriera e che parleranno di quello che lui ha rappresentato per ognuno di noi al tavolo ma anche di quello che magari fuori dalla provincia di Sondrio in particolare significa ancora oggi fare il nome Diego Pini nel mondo del basket una serata in cui lo sport sarà assoluto protagonista insieme ai tanti amici che hanno affiancato Diego nella sua carriera tra cui Emilio Regamonti Maurizio Gandolfi Ettore Castoldi Domenico Zecca Maurizio Ferrari Fabio Corbani e Sandro Faccinelli che lo ricorderanno con il sorriso la caratteristica di Diego era che non si poteva caratterizzarlo una persona particolare con pregi e difetti come tutti ma che ne fanno poche di persone ne nascono poche di persone così che si dedicano così tanto agli altri e che lasciano così tanto anche quando se ne vanno l'appuntamento per il 10 maggio alle 20 e 30 presso la sala vitale del credito valtellinese del capoluogo per omaggiare la vita di un uomo che per 40 anni ha fatto del basket la sua ragione di vita ed ora invece passiamo alla palla a volo vittore nei campionati provinciali per le compagini auxilium di seconda divisione Under 14 e Under 13 FIPAV partendo dalla seconda divisione l'impresa di Gamonti ha superato per 3-7 a 0 la PGS Gordnes di Tirano punteggio che le permette di stazionare in seconda posizione nel girone con un solo punto di distacco dalla caponista nuova sondrio sportiva Volley si è concluso al meglio anche il match dell'Under 14 auxilium Andy Times che ha battuto il cosio volley per 3 parziali a 0 se l'auxilium dovesse riuscire a passare anche i prossimi turni potrebbe aspirare a conquistare un posto alle final four di domenica 20 marzo vittoria anche per l'Under 13 Boomerang che ha avuto la meglio sulla pentacom B per 3-7 a 0 brutta partita invece quella giocata dalla scieghia assicurazioni in trasferta contro le SF 82 e rinnovate che nel corso del campionato regionale Under 16 PGS l'auxilium non è mai riuscita ad entrare in partita venendo sopraffatta dalla forza delle avversarie e soprattutto nel fondamentale della battuta con la sconfitta termina anche il cammino della Sondriese verso la fase regionale ed ora invece passiamo all'Oscì Simon Talaccio tiene il pass per il trofeo Topolino il giovanissimo Livignasco categoria allievi ha centrato il successo nello slalom gigante di selezione per quella che viene considerata la kermesse più importante a livello internazionale riservate le promesse dello sci in programma per questo fine settimana buona anche la prova del compagno di squadra Gianne Rocca giunto terzo nella prova di slalom speciale riservata la categoria ragazzi ed ora invece passiamo agli sci stretti è ufficialmente scattata questa mattina la missione della formazione dell'Oscì Nordico del Comitato Fisi Alpi Centrali volta alla conquista dei campionati italiani Under 14 che si apriranno domani a Frassinorio in Pian del Garotti tra i selezionati per quanto riguarda l'Oscì Club Alta a Valtellina troviamo Francesca Cola Daniele Gaglia Simone Anzi per la polisportiva alle prese Martina Ieritro Cecilia Culturi Sofia Maiolani Giada Tarabini e Silvia Maiolani mentre per lo Sporting Livigno Emma Sensuoli Barbara Ferroleto Veronica Silvestri Lucas Bormonini Thomas Longa Mattiero Di Gari Silvano Raisoni Luciano Martinelli e Tommaso Mottini sono due invece i rappresentanti dell'Oscì Club Valmalenco che avviene al Barri dai Lorenzo Moizzi saranno tre giornate intense di gare domani Gincana Sprint lungo la pista del Lago Murato di Frassinoro il giorno seguente spazio alle gare individuali ed in fine domenica la spettacolare prova staffetta mista e con questo si conclude il nostro notiziario vi auguro buona serata e a sentirci domani amici sportivi